Ue ue ragazzi e bentornati! Oggi andremo ad aprire ben 10 lama selvaggio west Questi lama selvaggio west dovrebbero contenere tutto il set ad avancarica Quindi indovinate cosa andrò a fare oggi? Per riscatteremo ben 10 lama selvaggio west che garantiscono almeno un eroe o un'arma ad avancarica di livello epico superiore per un periodo limitato Comunque visto che molti di voi mi hanno chiesto come si farmano i biglietti in questa season Purtroppo al momento l'unico modo che abbiamo per poterli farmare è appunto affrontare le missioni Più saranno alte le missioni appunto e più ci ricompenseranno con dolciumi Fino alla zona al 140 dove appunto ne riceveremo 130 a partita Anche alla fine di Vallarguta possiamo ottenerne fino a 100 a partita Che non è male comunque paragonando la difficoltà che abbiamo in zona endgame paragonata comunque alla fine di Vallarguta Sicuramente saremo meno stressati A tavolaccia invece riusciremo ad accumularne più o meno 60 a partita Mentre a Pietralegno ci daranno 50 dolciumi a partita Che sì effettivamente per ogni lama che costa 500 è abbastanza difficile farmare queste caramelle Vi ricordo inoltre che queste caramelle farmate varranno anche per il prossimo set in uscita Quindi sì cercate le armi che vi mancano ma tenetevene qualcuno da parte per il nuovo set Comunque si spera che aggiungeranno anche altri metodi per farmare queste caramelle In quanto appunto ci saranno tante uscite quali dungeon, il boss mitico, le armi mitiche eccetera eccetera Si spera che comunque implementino un metodo per farmare anche queste caramelle più velocemente Purtroppo raga mi è andata malissimo nel senso che comunque quello che ho trovato bene o male avevo già tutto Io puntavo molto allo schioppo perché lo vorrei multi elemento ne vorrei almeno un altro di energia Visto che comunque ce l'ho dal day one nel lama compleanno non ne ho mai trovato un altro Mi piacerebbe appunto crearmene un paio sia di fuoco che acqua ma a me basterebbe trovarne un altro di energia Quindi penso che continuerò ad aprire altri lama fino a trovarne almeno un altro Poi inizierò ad accumularmi i biglietti per il prossimo set perché appunto ci saranno magari armi interessantissime Abbiamo un sacco di novità, i dungeon, le armi mitiche eccetera eccetera Purtroppo raga facendo questi montaggi speciali i lama opening vengono davvero davvero corti Mi raccomando se avete ulteriori domande riguardanti le caramelle che sono i biglietti di questa stagione quindi non confondiamoci Che varranno comunque anche per il prossimo set in questa stessa season Ve lo ricordo che sia biglietti sia caramelle comunque valgono fino a fine season Se avete ulteriori domande siete liberi di farle nei commenti Se volete supportarmi come creatore per farlo vi basterà inserire KinoTV nell'item shop di Fortnite Comunque le armi che è possibile trovare le abbiamo viste Il lama opening l'abbiamo visto Come farmare le caramelle purtroppo questo è l'unico metodo Quindi non posso consigliarvi altri metodi, altre scappatoie perché al momento purtroppo non ce ne sono Io vi ringrazio di aver guardato il video Noi ci vediamo domani Bella bella Ciao Ciao I wish to stop